Attraverseremo il Pacifico, faremo il giro del mondo, ma ci muoveremo anche nel tempo. Partiremo dal primo secolo avanti Cristo e arriveremo al Cinquecento, quando grazie ai grandi navigatori i cartografi iniziarono a disegnare il mondo. Domanda, perché se parliamo di attraversate oceaniche partiamo dal primo secolo avanti Cristo? La risposta è in questa immagine. Si vedono pesci, un cesto di frutta con uva, melograni, sembrano una natura morta qualsiasi, ma se si guarda bene c'è anche un ananas. La cosa strana è che questo mosaico è di età augustea, quindi siamo proprio negli anni attorno alla nascita di Gesù. Ma l'ananas invece è un frutto originario dell'America, scoperta nel 1492. Quindi, che cosa ci fa un ananas a Roma 15 secoli prima? Come c'è arrivato? E non è l'unico ananas. C'è un affresco nella casa delle Febo a Pompei, con due serpenti, e al centro ancora una volta un ananas. Poi c'è una statuetta romana del III secolo d.C., conservata a Ginevra, dove si vede un bambino che tiene per il ciuffo ancora una volta un ananas. Ora, se come si dice tre indizi fanno una prova, dobbiamo pensare che al tempo dei Romani qualcuno abbia attraversato l'Atlantico e sia tornato indietro con degli ananas? Lucio Russo è un matematico. Professore di calcolo delle probabilità all'Università degli Studi Tor Vergata di Roma, ha una teoria rivoluzionaria. Secondo lui, le rotte atlantiche erano conosciute molto bene anche nel mondo antico. Ecco come dimostra la sua teoria. Allora, la tesi del professor Lucio Russo, un matematico, è abbastanza articolata e complicata. Insomma, ha parlato di prova matematica. Ho bisogno di uno dei nostri 14 esperti. Il professor Alessandro Barbero, benvenuto. Grazie. Allora, la prima cosa è provare insieme a inoltrarci in questa tesi e capire quali sono i punti di forza e i limiti. Ci aiuti a capire? Ci ho messo un po' anch'io, ma c'è un nucleo matematico appunto nella tesi del professor Russo che secondo me può anche funzionare e del resto io non ho mica gli strumenti per contestargli l'aspetto matematico e astronomico. Cioè in Soldoni, Ptolomeo misura la Terra e sbaglia tutte le misure perché mette il meridiano zero alle Canarie. Prima di lui, antichi scienziati greci avevano calcolato giuste le misure della Terra e queste misure tornano giuste se uno è il meridiano zero anziché alle Canarie, lo mette alle Antille. E quindi in sostanza... Cambia tutto, quindi? Cambia tutto dal punto di vista geometrico e matematico. E io ci credo. Secondo me Russo ha avuto un'intuizione brillante in questo. Navigatori antichi devono essere arrivati fino alle Antille, sperdute in fondo all'oceano dal loro punto di vista e quindi hanno portato queste conoscenze. Il punto debole del ragionamento di Russo, secondo me, è un altro. È che lui non si accontenta del fatto che dei navigatori sperduti sono arrivati fino alle Antille. Secondo lui ci sono stati dei contatti regolari fra il mondo antico e l'America. Tanto che secondo lui... Ci sono le prove di questo. Ma ci sono le prove, mica tanto. Ci sono tante cose strane. Però lui arriva a dire, secondo me, le civiltà precolombiane si sono sviluppate grazie all'influenza dell'Europa, del nostro mondo. E allora però c'è una domanda che si pone. Ma se davvero gli antichi hanno scoperto l'America nel senso che dice lui, cioè non solo sono arrivati per sbaglio fino alle Antille, e magari hanno continuato anche a andarci, ma hanno proprio scoperto l'America, com'è che poi se ne sono dimenticati? Perché a noi nessuno degli antichi se l'ha detto. Non è un'osservazione da poco questa. E infatti la fa anche il professor Russo, che però per risolverla si deve un po' arrampicare sugli specchi, secondo me. Nel senso che lui immagina che la conquista romana di Cartagine, che viene spianata, e della Grecia, abbia provocato un tremendo tracollo culturale. Chiusura di biblioteche, libri distrutti, intellettuali in fuga. Quindi conoscenze antiche perdute. Perdute. E siamo nel secondo secolo. Comprese quelle della navigazione. Esatto, questa è l'ipotesi di fondo. Solo che questo tracollo culturale, il professor Russo dice, è strano che gli storici lo abbiano sempre sottovalutato. Magari doveva metterlo sull'avviso questa cosa. Perché lui invece lo esaspera. E se lo inventa in un certo senso. Non c'è stato quel tracollo culturale. Senta, ma quindi siamo su un terreno dubbioso, insomma, di interrogativi questo qui, no? Assolutamente sì. Ma lei, per esempio, questa faccenda degli ananas da cui stiamo partiti, come la risolve? Perché i romani, con ogni evidenza, hanno questi segni? Proprio nella loro... Mangiano gli ananas, effettivamente. Visto che non sono ancora arrivati. È proprio la prova di come la questione è complicata e vale la pena di pensarci ancora, perché Russo ha fatto delle domande molto giuste, ma non ha dato le risposte adeguate, secondo me. Gli ananas a prima vista ci dicono, c'è poco da fare, i romani andavano in America, o almeno alle famose Antille. Benissimo. Ma gli ananas che noi vediamo, la statuetta del bambino con l'ananas in mano, è del terzo secolo dopo Cristo. Mentre, secondo la tesi di Russo, loro si erano già dimenticati tutto nel secondo secolo avanti Cristo. E allora, Russo se ne è accorto a un certo punto di questo. Nel suo libro a un certo punto si rende conto che questa cosa mina la sua spiegazione. E infatti nel libro cambia un po' idea a un certo punto, senza farlo troppo vedere. Dice, no, evidentemente le navi continuavano ad andare in America, le rotte continuavano a essere frequentate, però all'insaputa del governo e degli scienziati. E viene fuori questo quadro un po' folle, cioè i navigatori continuano ad andare in America, tornano con le navi cariche di merci, i consumatori mangiano l'ananas, gli unici che non sanno niente sono il governo e i geografi. Questo è debole e ci fa pensare che appunto Russo ha posto delle questioni interessantissime, ma le risposte non le abbiamo ancora. Vabbè, professore, noi in realtà siamo cresciuti col mappabondo già all'elementare, quindi, come dire, in qualche modo il problema è stato chiarito per noi. Però mi colpisce anche in questo racconto questa cultura occidentale che va continuamente indietro a recuperare dei pezzi di conoscenza spariti. Com'è possibile questo? Che ritorni come nuovo Claudio Tolomeo, che è, se non sbaglio, del II secolo d.C., secondo me è una cosa che succederà anche nei prossimi secoli, perché ci sono già i primi sintomi. Pian piano si vanno perdendo pezzi di conoscenza, no? Certe cose le facciamo peggio di prima, sempre peggio. E così è successo, tra l'antichità e il Medioevo si sono chiuse tante scuole, meno gente andava a scuola, i libri costavano più cari di prima, meno gente sapeva leggere, quindi si perdono dei pezzi, ma nel senso che si dimenticano. Stanno chiusi in una biblioteca dove non va più nessuno per un po' di tempo. Il che non vuol dire che si perde la trama complessiva della cultura, però si impoverisce, naturalmente, no? Non vuol dire che si dimenticano che la Terra è rotonda, per esempio, ecco. Perché è una cosa molto diffusa oggi, no? E pensare... Mi fa subito venire in mente un'immagine che abbiamo, che in realtà, ecco, noi abbiamo questo Carlo Magno, no? Siamo cresciuti con l'idea che a quei tempi tutti pensassero che la Terra fosse piatta. Invece, ci ha fatto notare che Carlo Magno ha in mano una cosa... Come qualunque imperatore medievale, non solo Carlo Magno, qualunque imperatore medievale ha in mano il simbolo del suo potere sul mondo. Letteralmente, tiene il mondo in mano. E com'è il mondo? Rotondo. Mappa Mundi, 1290. Qui, invece, però, la Terra è piatta. Ma mica tanto. No. Anche sui nostri Atlanti è piatta. Cioè, se uno deve disegnarla su un foglio, viene così per forza, no? È un problema di lettura. Ma è certo. Quella mappa lì non è affatto una rappresentazione del globo nel suo insieme. È la rappresentazione dei tre continenti, come anche Tolomeo le immaginavano. C'è l'Asia, l'Europa e l'Africa. Dopodiché è una rappresentazione, come si faceva in effetti nel Medioevo, che non è una carta stradale, non è la carta del Turing, che noi usiamo per dire dove devo andare? A destra o a sinistra? 1,250.000. Ecco, quella mappa lì che stiamo vedendo è immensa. È fatta, pensi, su un'unica pelle di vitello, un'unica immensa pergamena. Cioè, mezza stanza. È mezza stanza, è una parete, certamente. Ed è un riassunto culturale. Non è una carta geografica. Infatti l'autore ci ha scritto da qualche parte, uno di Dascalia, dove dice questa mia storia. È una storia del mondo. Quindi ci sono i monumenti, le città rappresentate con i fatti biblici, per esempio, c'è la Torre di Babele, c'è Gerusalemme in mezzo. Perché la Bibbia dice, libro di Ezechiele, credo, io ho posto Gerusalemme al centro del mondo. Al centro, quindi anche fisicamente al centro. E quindi la mette lì. Ma perché è un riassunto di conoscenze, non è una carta stradale, per l'appunto. Invece c'è un'altra mappa ancora, quella di Juan de la Cosa, siamo nel 1500, no? E questo è il proprietario comandante poi... De la Santa Maria, sì, della principale, di Colombo, sì. E questo è importante perché Juan de la Cosa, appunto, è uno di quelli che ci sono andati in America con Colombo, ed è, credo, la prima mappa che otto anni, tipo, dopo la scoperta dell'America, raffigura il continente americano. E' quella parte che vediamo lì in verde e che sostanzialmente è abbastanza riconoscibile anche adesso, specialmente in Sud America. Dopodiché Juan de la Cosa ci ha messo in mezzo, proprio dove c'è il centro America, un santino ed è San Cristoforo, in un'ora di Colombo, naturalmente. Allora, invece, facciamo un altro passaggio. Abbiamo visto navigazione degli antichi, il tema sono stati in America o non sono stati in America, che ne so, i cartaginesi a questo punto, ricitando il professore, il matematico di cui siamo partiti. Ci hanno abituati a pensare che i navigatori andassero guardando le stelle, no? Ma invece no, invece guardavano le mappe. Cioè, erano più importanti le stelle o le mappe? Quando eri nell'oceano, le stelle, per forza di cose, perché di mappe non ne avevi più. Nel Mediterraneo navigavano con le mappe, avevano delle bellissime mappe con tutti i porti, la linea della costa, e allora usavano quelle. Quindi hanno sempre usato le mappe, in realtà. Sì, sì, nel Mediterraneo sì. Allora, abbiamo visto che uno di questi cartografi curava le lettere di Vespucci, e mi viene da dire, allora, Vespucci, Colombo, quindi navigatori italiani, eppure in questa corsa alla ricerca del nuovo mondo, non ci sono le grandi potenze, tipo Venezia, tipo Genova, che in realtà poi sono potenze anche commerciali, che cercavano nuovi sbocchi. Come mai non fanno questa corsa loro? Ma in parte è un problema proprio di geografia, perché queste città sono sepolte nel Mediterraneo, e i paesi che fanno la corsa all'America sono i paesi che si affacciano sull'Atlantico, il Portogallo, la Spagna, l'Inghilterra, l'Olanda, loro sono favoriti, sono già lì. Per le potenze navali italiane, già arrivare fino all'Atlantico è già un lungo viaggio. E poi c'è quest'altra cosa, che loro nel Mediterraneo ci stanno benissimo, dominano i commerci con l'Oriente, sono straricche, non c'è quella spinta che possono avere invece, che so, gli inglesi, che fino a quel momento non contavano niente, di ritagliarsi un nuovo ruolo. E quindi loro rimangono in questo Mediterraneo che quando Colombo scopre l'America è il centro del mondo, dell'economia mondiale. E 200 anni dopo è diventato uno stagno di periferia. Allora, torniamo ai nostri, Waldseemuller, insomma agli alzaziani per intenderci. Questa mappa loro è interessante perché va perduta in realtà. Tutto questo racconto è su una cosa perduta. Era nel 500 ma è ricomparsa addirittura solo nel secolo scorso. In realtà poi, essendoci in mezzo all'America, una delle coppie è alla libreria del congresso a Washington. È stata una riscoperta rocambolesca insomma, come sempre poi c'è dietro il giallo in queste costruzioni, no? Nel senso che gesuiti, biblioteche, mi sono annotato. Insomma, abbiamo visto una cosa che sembra un romanzo, insomma, potrebbe aver successo come... Eh sì, ci penserò, se non l'hanno ancora fatto. Però invece c'è una cosa. Allora, noi sappiamo che poi alla fine questa mappa dei due geografi alzaziani è stata ritrovata e battuta addirittura a 10 milioni di dollari, insomma. Quindi, insomma, ha anche un peso perché poi gli americani trovano lì le proprie radici, quindi è importante. Però, questi americani, ecco, lei ci ha suggerito una cosa strana che è questa Flat Earth Society. Cioè, della gente che oggi, anno 2013, pensa realmente, ecco qui c'è la mappa, che la terra sia piatta. Ecco, io voglio capire, siccome appunto non siamo in un programma, come dire, sensazionalista, cioè, com'è possibile che degli uomini del 2013 abbiano questa idea? Su cosa la fondano poi? E' una storia fantastica, questa della terra piatta, perché appunto, come lei diceva prima, noi crediamo che nel Medioevo fossero così ignoranti da immaginarsi la terra piatta. In realtà, il primo libro scritto per dimostrare che la terra è piatta è stato pubblicato alla fine dell'Ottocento in America. Cioè, nel paese del progresso, nel paese della tecnologia, c'è un signore, William Carpenter si chiamava, che ha pubblicato, a sue spese, 100 prove che la terra è piatta. 100, sono prove bellissime, perché lui dice, non c'erano ancora gli aeroplani, lui dice, se uno sale su un pallone e guarda giù, si vede benissimo che è piatta. E quella è la prima prova, e le altre soprattutto dello stesso livello. Poi però appunto... Molto sperimentale. Sì, no, assolutamente. Oppure anche teologiche, c'è anche una prova teologica, e dice, Dio è onnipotente e onnisciente, ci vuole bene, sa che noi abbiamo bisogno di una superficie piatta per vivere comodi. E siccome è anche infinitamente buono, è ovvio che ci ha fatto una superficie piatta. E questa è la prova teologica. Quindi è una prova teologica, adesso ho detto sperimentale, ma la prova giusta era esperienziale. Attraverso le osservazioni, diciamo, sì. Dopodiché la società della terra piatta nasce, se non sbaglio, nel 1956, tre anni prima della mia nascita. Ma dopo la guerra. Dopo la guerra. Si è poi sciolta e è stata rinnovata di recente. Esiste tuttora e fa molta propaganda anche. E lì, filoni sono due. Da un lato ci sono questi protestanti americani, come dire, i fondamentalisti che vogliono la lettura della Bibbia e basta, no? Gli stessi che non vogliono insegnare l'evoluzionismo a scuola. E quindi loro dicono, se insegnate a scuola che la terra è rotonda, dovete insegnare anche la teoria alternativa, che è piatta. E poi ognuno sceglierà come preferisce. Anche su quello, vabbè. E poi c'è un altro filone che è molto diffuso nel nostro mondo di oggi. Quelli che dicono, non bisogna credere a niente perché ci ingannano. Che dentro così sarebbe anche vero. Il famoso complottismo. Il complottismo, cioè che non bisogna credere a tutto, è anche vero. Questo invece è il complottismo. Non è vero che l'uomo è andato sulla Luna, è tutto un complotto della NASA, sono fotomontaggi. E allo stesso modo, non è vero che la terra è rotonda, ce lo vogliono far credere. Ah, interessante. Però, a questo punto, fatta tutta questa premessa, io le chiedo, dopo tutto questo racconto, che è anche del mistero del giallo dentro, il libro, il film e il luogo da visitare, rispetto a questo. Sarà un giallo il film? C'è questa dura prova alla fine. Facciamo dal film, è un giallo? Ma dunque, no, no. Io come libro propongo... Non Dan Brown. Come libro propongo il Colombo di Altan. Quindi, un fumetto divertentissimo, pieno di errori storici, va detto, ma non importa, tanto anche nei libri seri ci sono gli errori, e quello è veramente un modo per calarsi in come poteva essere la testa di quella gente. Il luogo... Qui vado più sul serio. Io direi il Museo Navale di Genova, che è un bellissimo museo, nella villa di Andrea Doria, dove uno le vede davvero, queste mappe che noi abbiamo visto qua in televisione, la gente le può vedere davvero, tocca al comando. Ma anche il film? Il film... Un film che non c'entra niente con i navigatori, ma in modo indiretto invece sì. Water World, con Kevin Costner, che è un grandioso film che immagina il mondo futuro, dopo che si sono sciolti i ghiacci, e quindi è tutto coperto d'acqua, e la gente vive navigando su imbarcazioni di fortuna. Non c'è nessun film come quello che ti dia l'idea di come doveva essere davvero la vita della gente di Colombo in mezzo all'oceano. Modernissimo, professor Romero. Grazie di averci dato anche un fumetto e Water World come indicazioni finali. Affascinante.